e ti saluto con la pace del signore e che dio ti benedica grandemente a te e all'intera tua famiglia oggi sabato 5 novembre 2022 siamo pronti per ascoltare la parola del signore ed è questo quello che vogliamo fare subito quindi passo subito alla lettura del versetto di oggi che dice proprio così gesù disse le parole che vi ho dette sono spirito e vita testo che puoi trovare nel vangelo di giovanni capitolo 6 il versetto 63 ed è ancora signore da chi andremo noi tu hai parole di vita eterna quest'altro testo lo possiamo trovare sempre nel vangelo di giovanni capitolo 6 il versetto 68 il titolo di questa meditazione biblica è una domanda come fare ci sono talmente tante idee che circolano nel mondo dov'è la verità sì dove trovare dei fondamenti solidi per i nostri pensieri la fede cristiana è basata su fatti oggettivi non si possono accantonare senza averli esaminati attentamente numerosi storici e archeologi ne sono testimoni ma c'è una risorsa che è alla portata di tutti leggere la bibbia con un cuore schietto senza preconcetti inoltre chi desidera sinceramente conoscere la verità e non solo e conformarsi a ciò che la bibbia insegna può supplicare dio di rivelarsi per mezzo della sua parola non resterà deluso vuoi davvero sapere se dio ha parlato e se ne avrai la certezza farai veramente ciò che egli ti chiede allora abbi il coraggio di ascoltare ciò che dio ti dice per mezzo della bibbia e trai tu le conclusioni sarai ricolmo di pace si sente anche dire so che la bibbia è un libro particolare degno di fede ma ho paura del grande dio che essa rivela sì dio è grande ma per amore si è rivelato in cristo gesù dio è diventato uomo nessuno può arrivare a lui con i propri sforzi ma gesù offre a ciascuno un modo molto semplice per ristabilire con dio quella relazione che è stata interrotta dalla disubbidienza e dal peccato è sufficiente che tu credi in lui e dio ti darà una vita abbondante ed eterna ti sembrerà difficile perché dovrai riconoscere di non essere in grado di farcela da solo ma questo è l'unico modo per essere salvate ed è alla portata di tutti e concludo questa meditazione biblica con una domanda e tu caro amico e tu caro amico e cara amica vuoi essere salvato vuoi essere salvata la risposta la puoi dare solo tu dio ti benedica buona giornata e che la pace di cristo ti accompagni in tutto questa giornata buon fine settimana